Segui La Sette anche su Instagram, La Sette ovunque con te. Mi impressiona vedere come già in pochi giorni di governo ci si stia allontanando dalla realtà. Evidentemente è un problema che colpisce chi va al governo, perché è chiaro che il paese ha degli altri problemi. Tra le questioni energetiche, l'inflazione, l'annuncio della Lagarde che aumenteranno ancora i tassi. Noi abbiamo intere categorie di lavoratrici, lavoratori, piccoli e medi imprenditori, partite IVA che corrono il rischio di non riuscire a sostenere l'aumento del costo della vita complessivo oltre che quello energetico. E tutto quello che si sta facendo dalla legge di bilancio in poi, insufficiente e che dura per tre mesi, perché non era una legge di bilancio, era un tentativo temporaneo di comprare un po' di tempo e di sperare che la condizione macroeconomica migliorasse, tutto quello che si riesce a fare è buttare ideologia. Anche questa cosa dei balneari, che non è realizzabile evidentemente, è buttare ideologia. La posso interrompere un secondo, De Michelis, perché ti passo, ti do subito la parola, ma devo chiedere prima a De Michelis, come lei è candidata alla segreteria del Partito Democratico, diciamo che il Partito Democratico su tutte queste questioni, alcune molto rilevanti, anzi tutte quelle che abbiamo citato stasera, molto importanti, non pervenuto. Beh, allora, che diciamo ci sia un'intensità inferiore rispetto al passato, perché siamo in una fase di transizione, sì, che noi non abbiamo una posizione sulle questioni economiche, no, è troppo. No, 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 ma adesso dico quelle che stiamo discutendo dalle intercettazioni, a tutta una serie di questioni. E lo dice la candidata, diciamo così, che è un pochettino più critica, no, sulla gestione, insomma, di quest'ultima fase. Però mi scusi, non la devo interrompere, perché sulle intercettazioni ieri in Parlamento, l'opposizione era ancora una volta rappresentata da Conte, leader del Movimento 5 Stelle, che ha detto delle cose in modo chiaro, netto e inequivocabile. La vostra voce, ripeto, non pervenuta. Allora, noi abbiamo fatto gli interventi posizionando il Partito Democratico in maniera timida, sì, questo è uno dei problemi del PD. Noi, fino adesso, abbiamo anche per esigenze del Paese, con il tema della responsabilità del governo, abbiamo sempre avuto posizioni, un po' e un po', un po' e un po', nessuna delle questioni fondamentali del Paese con la radicalità. Ma sulle intercettazioni, il PD, lei, la posizione è che le intercettazioni non si toccano né per i magistrati, per utilizzarle per le indagini, e neanche per i giornalisti che sono già adesso soggetti, giustamente, a delle regole sulla diffusione. In un partito garantista, questo scriverò, ho scritto, scriverò, ho scritto nel libro, scriverò anche nel documento congressuale, in un partito garantista le intercettazioni si fanno funzionali alle indagini, meglio mille di centomila, ok? E la regolazione delle intercettazioni è funzionale all'obiettivo, non ha un tema di tempo, né la riforma di Nordio, si prevede prima sì, poi no. Cioè, c'è una separazione dell'uso delle intercettazioni che non è funzionale all'indagine. Cioè, la lotta alla mafia, la lotta alla corruzione si fa anche con le intercettazioni, è del tutto evidente questo.